Chekhov Dalle memorie di un uomo irascibile Io sono un uomo serio e il mio cervello ha un indirizzo filosofico. Di professione sono finanziere. Studio diritto finanziario e scrivo una dissertazione dal titolo Passato e avvenire della tassa sui cani. Convenite che non ho proprio nulla a che fare con fanciulle, romanze, la luna e altre sciocchezze. Mattina, ore dieci. La mia mamma mi versa un bicchiere di caffè. Io bevo ed esco sul balconcino per subito por mano alla dissertazione. Prendo un foglio di carta pulito, intingo la penna nell'inchiostro e traccio il titolo. Passato e avvenire della tassa sui cani. Dopo aver pensato un po', scrivo Rassegna storica. A giudicare da taluni accenni che si hanno in erodoto e in senofonte, La tassa sui cani trae origine da... Ma qui odo dei passi, insommo grado sospetti. Guardo dal balconcino e vedo una ragazza dal viso lungo e dalla vita lunga. Si chiama, sembra, nadenca o varenca. Ciò che del resto fa assolutamente lo stesso. Ella cerca qualcosa. Fa vista che non si accorge di me e canticchia. Rammenti il canto pieno di dolcezza. Io leggo ciò che ho scritto. Voglio continuare. Ma allora la fanciulla fa mostra ad essersi accorta di me. E dice con voce triste. Buongiorno, Nicolai Andrievic. Figuratevi che disavventura ho avuto. Ieri passeggiando smarrì il fermaglio del braccialetto. Rileggo ancora una volta l'inizio della mia dissertazione. Ritocco il filetto di una C e voglio continuare. Ma la ragazza non smette. Nicolai Andrievic dice Siate così gentile. Accompagnatemi a casa. I Karelin hanno un cane così enorme che non mi risolvo ad andare sola. Non c'è che fare. Poso la penna e scendo giù. Nadenka o Varenka mi prende a braccetto e ci avviamo alla sua villetta. Quando mi tocca in sorte di dover camminare sotto braccio con una signora o signorina mi sento sempre chissà perché un uncino a cui abbiano appeso una grossa pelliccia. Nadenka poi o Varenka è una natura, sia detta fra noi, appassionata. Suo nonno era un armeno. Possiede la facoltà di sospendersi al vostro braccio con tutto il peso del suo corpo e, come una mignatta, stringervisi al fianco. E così andiamo. Passando accosto ai Karelin vedo un grosso cane che mi fa rammentare la tassa sui cani. Con angoscia ricordo il lavoro cominciato e sospiro. Per cosa sospirate? Domanda Nadenka o Varenka e manda lei stessa un sospiro. Qui devo fare un'avvertenza. Nadenka o Varenka, adesso rammento che si chiama pare Maschenka, ha immaginato chissà come che io sia di lei innamorato. Mi perciò stima dovere di filantropia guardarmi sempre con compassione e curare verbalmente la mia ferita di cuore. Ascoltate, dice fermandosi, io so perché sospirate. Voi amate, sì. Ma vi prego, in nome della nostra amicizia. Credete, la fanciulla che amate vi stima profondamente. Il vostro amore non può ripagarvelo del pari, ma c'è forse colpa a lei se il suo cuore già da un pezzo appartiene a un altro? Il naso di Maschenka si fa rosso e gonfio. Gli occhi le si riempiono di lacrime. Il, quanto sembra, aspetta da me una risposta. Ma per fortuna siamo ormai arrivati. Sul terrazzo siede la mamma di Maschenka, buona donna, ma con pregiudizi. Data un'occhiata al viso turbato della figlia, ferma su di me un lungo sguardo e sospira, come volesse dire. Ah, gioventù, perfino nascondere non sapete. Oltre a lei, sono sedute sul terrazzo alcune ragazze variopinte e in mezzo a loro un mio vicino di villeggiatura, ufficiale a riposo, ferito nell'ultima guerra alla tempia sinistra e all'anca destra. Questo sventurato, al pari di me, si è prefisso lo scopo di consacrare quest'estate alla fatica letteraria. Egli scrive, memorie di un militare. Al par di me, ogni mattina mette mano al suo rispettabile lavoro, Ma appena riesce a scrivere, io nacqui, il Che sotto il balconcino compare una qualche varenca, o maschenka, E il ferito servo di Dio è preso sotto guardia. Tutti quelli seduti sul terrazzo nettano per la confettura certe insipide bacche. Io mi ha comiato e voglio andarmene, Ma le signorine variopinte con uno strillo agguantano il mio cappello ed esigono che io rimanga. Mi metto a sedere. Mi porgono un piatto di bacche e una spilla. Comincio a ripulire. Le signorine variopinte parlano sul tema uomini. Il tale è carino, il tal altro è bello, ma non simpatico. Un terzo non è bello, ma è simpatico. Un quarto non sarebbe brutto se suo naso non somigliasse a un ditale. E così via. E voi, messie, Nicolà, si rivolge a me la mamma di varenca, Non siete bello, ma siete simpatico. Nel vostro caso c'è qualcosa? Del resto, ella sospira. Nell'uomo, il più non è la bellezza, ma l'intelligenza. Le ragazze sospirano e abbassano gli occhi. E seppure son d'accordo che nell'uomo il più non è la bellezza, ma l'intelligenza. Io mi guardo di sbieco allo specchio, per convincermi di quanto son simpatico. Vedo una testa ruffata, barba baffi, sopracciglia ruffati, peli sulle guance, peli sotto gli occhi. Tutto un boschetto, fuor del quale, a mo' di vedetta, guarda il mio solido naso. Bello, non c'è che dire. Per resto, Nicolás, voi vincerete con le vostre qualità morali, sospira la mamma di Nadenka, come riconfortando un suo segreto pensiero. E Nadenka soffre per me, ma nello stesso, mentre la consapevolezza che di fronte le siede un uomo innamorato di lei, le procura, quanto sembra, il massimo diletto. Finito con gli uomini, le signorine parlano d'amore. Dopo una lunga conversazione sull'amore, una delle ragazze si alza e se ne va. Le rimaste cominciano a riveder le bucce a quella che è andata via. Tutte trovano che è sciocca, insopportabile, brutta, che ha una scapola fuori di posto. Ma ecco, la Dio Mercè viene infine alla cameriera, invitata dalla mia mamman, e mi chiama a desinare. Ora posso lasciare la sgradita compagnia e andare a continuare la mia dissertazione. Mi alzo e prendo commiato. La mamman di Varenka, Varenka stessa e le signorine variopinte, mi attorniano e dichiarano che non ho alcun diritto di andarmene, avendo dato ieri la parola d'onore di pranzar con loro e dopo pranzo di andare al bosco per funghi. Mi inchino e siedo. Nell'anima mia ribollo l'odio. Sento che ancora ho un minuto e non rispondo più di me. Accadrà un'esplosione, ma la delicatezza e il temore di venire meno alle buone maniere mi sforzano a obbedire alle signore. E obbedisco. Ci mettiamo a pranzare. L'ufficiale ferito, al quale, per via della ferita alla tempia, si è formata una contrattura delle macelle, mangia con un'aria tale come se fosse imbrigliato e avesse in bocca il morso. Io arrotolo palline di pane. Penso alla tassa sui cani e, conoscendo il mio carattere irascibile, mi sforzo di tacere. Nadenka mi guarda con compassione. Intingolo di carne tritata, lingua con piselli, pollo arrosto e composta. Niente appetito, ma per delicatezza mangio. Dopo pranzo, quando me ne sto solo in terrazzo a fumare, mi si accosta la mamma di Maschenka, stringe le mie mani e dice Ansando. Ma voi non disperate, Nicolás. È un tal cuore, un tal cuore. Andiamo nel bosco per funghi. Varenka è sospesa al mio braccio e si appiccica al mio fianco. Soffro intollerabilmente. Ma sopporto. Entriamo nel bosco. Ascoltate, Messia Nicolà, sospira Nadenka. Perché siete così triste? Perché state zitto? Strana ragazza. Di che mai posso parlare con lei? Che abbiamo di comune? Su, dite qualcosa, e la prega. Io comincio a escogitare alcunché di popolare, accessibile alla sua comprensione. Dopo aver pensato, dico. Il disboscamento recca un danno enorme alla Russia. Nicolás, sospira Varenka, e il suo naso si fa rosso. Nicolás, voi evitate, vedo, un colloquio aperto. Come se voleste punire col vostro silenzio. Non corrispondono al vostro sentimento. E voi volete soffrire in silenzio, da voi solo. Ciò è orribile, Nicolás. Ella esclama, pigliandomi impetuosamente la mano. E io vedo come il suo naso comincia a gonfiare. Che direste se la fanciulla che amate vi offrisse eterna amicizia? Io borbotto qualcosa di sconnesso. Perché proprio non so che cosa dirle. Di grazia. In primo luogo, non amo nessuna fanciulla. E secondariamente, perché cosa mi potrebbe occorrere un'eterna amicizia? Terzo. Sono molto irascibile. Maschenka o Varenka si copre il viso con le mani. Che dice a mezza voce come tra sé. E gli tace. Evidentemente vuole un sacrificio da parte mia. Non posso mica amarlo se tuttora ne amo un altro. Del resto, ci penserò. Bene, ci penserò. Raccoglierò tutte le forze della mia anima. E forse, a prezzo della mia felicità, salverò quest'uomo dalle sofferenze. Non capisco nulla. È una specie di cabalistica. Proseguiamo e cogliamo funghi. Tutto il tempo restiamo zitti. In viso a Nadenka ve l'espressione di una lotta interiore. Si sente un latrar di cani. Questo mi rammenta la mia dissertazione e sospiro rumorosamente. Attraverso i tronchi degli alberi scorgo l'ufficiale ferito. Il poveretto zoppica dolorosamente a dritta e a manca. A destra l'anca ferita. A sinistra gli pende una delle fanciulle variopinte. Il volto esprime rassegnazione al destino. Dal bosco facciamo ritorno alla casa di villeggiatura a bere il tè. Dopodiché giochiamo a croquet e ascoltiamo una delle variopinte fanciulle cantare la romanza «No, tu non mami, no, no!» Alla parola «no» e la torce la bocca fin proprio all'orecchio. «Charman!» Gemano le rimanenti fanciulle. «Charman!» «Bien sera!» Da dietro i cespugli striscia fuori una luna repellente. Nell'aria ve' quiete e uno sgradevole odore di fiano fresco. Prendo il cappello e voglio andarmene. Ho bisogno di comunicarvi qualcosa. Mi bisbiglia significativamente Maschenka. Non andate via. Presento alcunché di poco buono. Ma per delicatezza rimango. Maschenka mi prende a braccetto e mi conduce da qualche parte per il viale. Ora poi tutta la figura di lei esprime la lotta. È pallida. Respira astento e sembra avere intenzione di strapparmi il braccio destro. «Che ha?» «Ascoltate!» Mormora. «No, non posso. No!» Vuol dire qualche cosa, ma esita. Ma ecco, dal suo viso io scorgo che si è risolta. Con gli occhi scintillanti, il naso gonfio, mi afferra la mano e dice rapida. «Nicolas, sono vostra! Amarvi non posso, ma vi prometto fedeltà!» Dopodiché si stringe al mio petto ed un tratto balza indietro. «Viene qualcuno!» Bisbiglia. «Addio!» «Domani alle undici sarò al capanno!» «Addio!» E scompare. Senza capir nulla, sentendo un doloroso batticuore, «Me ne vado a casa!» Mi aspetta passato e avvenire della tassa sui cani. Ma lavorare ormai non posso. Sono furioso. Si può per fin dire che sono orrendo. Che il diavolo mi porti. Non permetterò che mi si tratti come un ragazzuccio. Sono irascibile e scherzarmeco è pericoloso. Quando entra da me la cameriera per chiamarmi a cena le grido «Andatevene!» Si fatta irascibilità. Promette poco di buono. Il giorno dopo, di mattina. Tempo da villeggiatura. Cioè, temperatura sotto zero. Vento freddo. Pungente. Pioggia. Fango e odor di naftalina. Perché la mia mamma ha tolto dal baule ai suoi mantelli. Mattinata diabolica. Ciò precisamente il 7 agosto 1887, quando vi fu l'eclisse di sole. E dopo osservarvi che durante l'eclisse, ciascun di noi può recare un enorme vantaggio, senza essere astronomo. Così ognuno di noi può 1. Determinare il diametro del sole e della luna. 2. Disegnare la corona del sole. 3. Misurare la temperatura. 4. Osservare al momento dell'eclisse animali e piante. 5. Annotare le proprie impressioni. E così via. Questo è così importante che io, per intanto, lasciai da parte passato e avvenire della tassa sui cani e risolsi di osservare l'eclissi. Ci eravamo alzati tutti prestissimo. Tutto il lavoro imminente l'avevo diviso così. Io avrei determinato diametro del sole e della luna. L'ufficiale ferito avrebbe disegnato la corona. Tutto il resto poi se lo sarebbe assunto Maschenka e le signorine variopinte. Eccoci tutti riuniti ad aspettare. Perché si ha l'eclisse? Domanda Maschenka. Io rispondo. Le eclissi solari avvengono nel caso che la luna, rotando nel piano dell'eclittica, venga a trovarsi sulla linea congiungente i centri del sole e della terra. Che vuol dire, eclittica? Io spiego. Maschenka, dopo aver ascoltato attentamente, domanda. Si può, attraverso il vetro affumicato, scorgere la linea congiungente i centri del sole e della terra? Le rispondo che questa linea si traccia astrattamente. Se è astratta, non si raccapezza Varenka. Come mai può collocarvisi la luna? Non rispondo. Sento come, a cagione di questa ingenua domanda, comincia a ingrossarmisi il fegato. Sono tutte frottole, dice la mamma di Varenka. Non si può sapere quel che sarà. E per di più, voi non siete stato in cielo, neppure una volta. Come fate dunque a sapere ciò che accadrà alla luna e al sole? Tutto questo è fantasia. Ma ecco una macchia nera muover contro il sole. Confusione generale. Mucche, pecore e cavalli, rizzate le code e rugliando, in preda terrore correvan pei campi. I cani urulavano. I cimici, immaginando scesa la notte, erano sbucate dalle fessure e avevano cominciato a mordere quelli che dormivano. Il diacono, che in questo mentre si portava a casa dall'orto i cetrioli, sgomento, balzò dal carro e si nascose sotto il ponte. E il suo cavallo entrò col carro in un cortile altrui, dove i cetrioli furono divorati dai maiali. L'addetto Aldazio, che aveva trascorso la notte non a casa, ma presso una villeggiante, salto fuori in sole mutande e corso in mezzo alla folla, prese a gridare con voce selvaggia «Se salvi chi può!» Molte villeggianti, anche giovani e belle, d'estate dal rumore balzarono sulla via senza aver calzato le scarpe. Accaddero anche molte altre cose che io non mi risolvo a narrare. «Ah, che paura!» strillano le fanciulle varie pinte. «Ah, è terribile!» «Madame, osservate!» gridò loro. «Il tempo è prezioso!» E io stesso mi affretto, misuro il diametro, mi rammento della corona e cerco con gli occhi l'ufficiale ferito. Egli sta lì e non fa nulla. «Che avete?» grido «E la corona!» E gli alza le spalle e impotente mi accenna con gli occhi le proprie braccia. Alle due braccia del poverino si sono appese le fanciulle varie pinte, si stringono a lui dal terrore e gli impediscono di lavorare. Prendo il lapis e annoto il tempo coi secondi. «Ciò è importante!» segno la posizione geografica del punto di osservazione. Anche questo è importante. Voglio determinare il diametro. Ma in questo mentre Machenka mi prende per la mano e dice «Non dimenticate dunque!» «Oggi!» «Alle undici!» Io tolgo la sua mano e facendo caso di ciascun secondo voglio proseguire le osservazioni. Ma Varenka convulsamente mi prende a braccetto e si stringe al mio fianco. L'apis vetri schizzi tutto ciò precipita nell'erba il diavolo sa che cosa ma è tempo infine che questa ragazza capisca che io sono irascibile che io incollerito divento furioso e allora non posso rispondere di me. Voglio continuare ma l'eclissa è bello e finito. rivolgetemi uno sguardo sussurra ella teneramente oh questo è ormai il colmo dello scherno convenite che si è fatto giocare con l'umana pazienza non può che finir male non mi fate poi colpa se accadrà qualcosa di tremendo a nessuno permetterò di scherzare di farsi beffe di me e che il diavolo mi sbrani quando sono infuriato non consiglio a nessuno di farmi si accosto che il diavolo mi porti proprio sono pronto a tutto una delle ragazze probabilmente accortasi dal mio viso che sono infuriato dice evidentemente allo scopo di calmarmi ma io Nicolaia Andrejevic ho eseguito il vostro incarico ho osservato i mammiferi ho visto come prima dell'eclisse un cane grigio è corso dietro un gatto e poi a lungo ha scodinzolato così dall'eclisse non è risultato nulla vado a casa in grazia della pioggia non esco sul balconcino a lavorare l'ufficiale ferito si è arrischiato a uscire sul suo balcone e ha scritto perfino io nacqui il e ora io vedo dalla finestra come una delle fanciulle variopinte lo trascina alla sua villetta lavorare non posso perché son tuttora infuriato e mi sento il batticuore al capanno non vado ciò è scortesia ma convenitene non posso già andarvi con la pioggia alle dodici ricevo una lettera da maschenca nella lettera vi sono rimbrotti le preghiere di recarmi al capanno e il tu all'una ricevo un'altra lettera alle due una terza bisogna andare ma prima di andare devo riflettere a quello di cui parlerò con lei agirò come un uomo a modo in primo luogo le dirò che ha torto immagina chiolami nel resto tali cose non si dicono alle donne dire a una donna io non vi amo è tanto indelicato come dire a uno scrittore voi scrivete male meglio di tutto esprimerò a Varenca le mie vedute sul matrimonio metto il cappotto pesante prendo l'ombrello e vado al capanno conoscendo il mio carattere irascibile temo davvero dire qualcosa di troppo cercherò di contenermi al capanno mi si aspetta Nadenca è pallida e ha pianto vedendomi manda un grido di gioia mi si getta il collo e dice finalmente tu giochi con la mia pazienza ascolta io tutta la notte non ho dormito ho sempre pensato mi sembra che quando ti conoscerò più da vicino ti amerò io siedo e comincio a disporre le mie vedute sul matrimonio da prima per non andare lontano per essere quanto più si può breve faccio una piccola rassegna storica parlo del matrimonio degli hindù e degli egizi dopodiché passo ad epoche posteriori qualche pensiero di Schopenhauer Maschenka ascolta con attenzione ma ad un tratto per una strana incoerenza di idee stima necessario interrompermi Nicolà baciami dice io sono turbato e non so che cosa dirle e le ripete la sua richiesta non c'è che fare mi alzo e poso le labbra sul suo lungo viso nel farché provo la stessa cosa che sentii nell'infanzia quando un giorno mi fecero baciare alla messa funebre una nonna defunta non appagandosi del mio bacio va rincada un balzo e mi abbraccia impetuosamente in questo mentre alla porta del capanno si mostra la mamma dimaschenka e la fa un viso spaventato dice a qualcuno e sparisce come mefistofele nella stiva conturbato e furioso me ne torno al mio villino a casa trovo la mamma di varenka che con le lacrime agli occhi abbraccia la mia mamma e la mia mamma piange e dice io stessa lo desideravo dopodiché come vi piace questo la mamma di varenka mi si accosta e mi abbraccia dicendo dio vi benedica e tu bada amala ricordati che lei per te fa un sacrificio e ora mi ammogliano mentre scrivo queste righe mi stanno addosso i paggi d'onore e mi fan paura costoro positivamente non conoscono il mio carattere che io sono irascibile e non posso rispondere di me che il diavolo mi porti vedrete quel chi accadrà più in là condurre a nozze un uomo irascibile furibondo questo secondo me è così poco intelligente come ficcare la mano in gabbia verso una tigra infuriata vedremo quel che accadrà così sono sposato tutti mi fanno i rallegramenti e varenka di continuo si stringe a me e dice capisci dunque che tu ora sei mio mio dimmi dunque che mi ami dillo e intanto le si gonfia il naso ho saputo dai pagi d'onore che l'ufficiale ferito è destramente sfuggito a imeneo egli ha esibito a una fanciulla variopinta un certificato medico che in grazia della ferita alla tempia egli non è mentalmente normale e quindi per legge non ha il diritto di sposarsi un'idea io pure avrei potuto esibire un certificato mio zio aveva accessi d'ubriachezza e un altro zio era molto distratto una volta invece del berretto si mise in testa un manicotto da signora una zia suonava molto il pianoforte e incontrando uomini mostrava loro la lingua inoltre anche il mio carattere in sommo grado irascibile è un sintomo assai sospetto ma perché le buone idee vengono così tardi perché